Sapevate che in Abruzzo c'è un posto che si può raggiungere solamente strisciando? Sì, avete capito bene ragazzi, proprio così ci troviamo nel cuore del Parco Nazionale della Maiella e stiamo parlando dell'eremo di San Giovanni all'Orfento. L'unico modo per raggiungere questo luogo così affascinante è strisciare a pancia in giù attraverso una stretta insenatura nella roccia sul bordo di uno strapiombo. E voi, soffrite di vertigine o provereste subito questa esperienza unica al mondo?